Il dolore di una mamma non è comprensibile, nessuno lo può capire. Ci ha ricordato ieri, nella puntata di ieri, Papa Francesco, quando abbiamo riflettuto sulle donne di Plaza de Mayo, cioè le donne che in Argentina, le madri dei desaparecidos, cioè dei figli che scomparivano e che addirittura sono scomparsi nel nulla perché venivano una volta rapiti, messi su degli aerei e poi buttati giù da questi aerei. Come si fa a dire a queste mamme che il Signore è con loro, che il Signore è con te? Perché queste situazioni non hanno delle risposte, ma il Papa diceva io a queste donne permetto tutte. E poi il Papa ci dice che una memoria materna, che è qualcosa di fisico ma anche una memoria di carne e di ossa, anche questa memoria può spiegare l'angoscia. Ecco, è importante, il dolore, il dolore non si può capire, ma l'angoscia la si può spiegare. Tante volte dicono, ma dove era la Chiesa in quel momento? Perché non ci ha difesi? E il Papa dice, io sto zitto e le accompagno. La disperazione delle mamme di Plaza de Mayo è terribile. Non possiamo far altro che accompagnarle e rispettare il loro dolore, prenderle per mano. Ma è difficile. Io sto zitto e le accompagno. Dov'è la Chiesa? Si chiede Papa Francesco, ma una domanda che le viene fatta oggi da tante persone, dinanzi al dolore. Dov'è la Chiesa? Dov'è Dio? Non c'è, non c'è una risposta. C'è semplicemente una presenza, appunto, fisica, una presenza silenziosa. Perché il miglior modo per rispettare il dolore delle mamme, il dolore delle persone, è il silenzio. È il silenzio. E quel silenzio fa capire la presenza di Dio. Non le parole, a massimo qualche piccola parole che nasce dal cuore, ma la presenza, l'abbraccio, asciugare le lacrime, accarezzare i visi e far toccare con mano a quelle persone che soffrono che Dio è con loro, il Signore è con te. Nei Vangeli non è scritto, ma a me piace pensare che Maria si sia commossa durante l'annunciazione e che Gabriele abbia asciugato le sue lacrime e l'abbia accarezzata. Perché la carezza nostra, la carezza che nasce dal cuore, una mano che asciuga le lacrime, ci dice che Dio è con noi, che il Signore è con noi. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!